Incontriamoci a Teramo per parlare del futuro dell'Europa. È l'iniziativa che si terrà all'Università degli Studi di Teramo, promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e organizzata dal Consorzio Punta Europa Abruzzo. Rappresentanti del Parlamento Europeo e istituzioni nazionali incontreranno gli studenti per un confronto sui più importanti temi europei. Un onore per il capoluogo aprutino. Infatti, sono solo otto le città italiane coinvolte in questo progetto. In un momento cruciale, molto delicato, dare un segnale di apertura, di riflessione su quello che deve essere un'Europa sicuramente più inclusiva, più solidale, diventa fondamentale. Ma questo non sarà il solo evento, vero? No, la cosa importante è che Palazzo Chigi ha scelto COPE per organizzare appuntamenti con un forum per i cittadini anche nelle Marche, in Abruzzo con un nuovo appuntamento, in Molise e in Puglia. È un segnale di grande attenzione che il Governo dà a questo consorzio terramano che sempre più si fa strada e viene riconosciuto come un ente affidabile, serio, concreto, che può dare un supporto al Governo italiano. Gli incontri sull'Europa del futuro si svolgeranno anche nelle altre città italiane, prevalentemente all'interno delle università, luoghi di conoscenza, di cultura e di pace. L'Ateneo di Teramo in particolare da sempre favorisce politiche di integrazione e progettualità europee comuni. Sapere che la nostra città, tra poche in Italia, possa ospitare un evento di questo tipo è molto importante. Consentitemi di ripeterlo, insomma, a tutte le popolazioni che in questo momento stanno soffrendo. Penso, ma semplicemente in ordine di tempo, all'Afghanistan e quindi al nostro progetto di ospitalità degli studenti e penso soprattutto all'Ucraina. Ieri abbiamo, come Senato accademico, fatto un comunicato importante in assonanza con la Crui e con la rete delle università e per la pace siamo pronti ad attivare dei percorsi di accoglienza anche per studenti ucraini. Ricordo, ovviamente, anche la Carta di Teramo, quindi il nostro impegno per la cooperazione e per lo sviluppo. Quindi, ecco, questa riflessione che si svolgerà venerdì si inserisce, insomma, in questo ambito importante per il nostro Ateneo.